Bro, si può fare uno sketch sulla simbologia politica falsamente politicamente corretta? Non ho capito un cazzo, ma sicuramente non lo vuoi fare. Facciamo uguale. Certo. Sai qual è lo stemma caratteristico del nazismo che non si riferisce ad alcun essere umano con accezione sessuale, bensì in maniera neutra per non ledere la sensibilità di alcuno? Quale? La shvastica! Dremabel, un canale sempre fresco di cui fidarsi. Beep. Beep. Beep.